Cerco subito un riparo. Occhio alle spalle, Nomad. Conquistate l'obiettivo. Postazione localizzata. I nemici hanno conquistato la postazione. Minaccia risolta. UAV in arrivo. Postazione persa. Bersaglio a terra. Bersaglio a terra. Postazione conquistata. Postazione contesa. Postazione persa. Preso. Postazione conquistata. Postazione persa. Preso. Postazione localizzata. UAV in arrivo. La postazione è nostra. Sera. A terra. Postazione contesa. Postazione persa. La postazione è nostra. La postazione è nostra. Steso. La postazione è localizzata. I nemici. Passo la postazione. Mentre tutti. Centro confermato. Centro confermato. Centro confermato. Nemico a terra. UAV di distanza. Postazione conquistata. Postazione persa. UAV alleato in arrivo. Uccisione confermata. Steso. La postazione è nostra. Scorretta rinforzata. Postazione localizzata. Grazie a tutti La postazione è nostra. La postazione è localizzata. La postazione è nostra. Spectre morto. La postazione è nostra. Chiaramento. Guardian in posizione. UAV alleato in arrivo. Quilineo. UAV di disturbo alleato in arrivo. Stazione persa. UAV in arrivo. Spectre morto. La postazione è conquistata. Quilineo. La postazione è persa. La torretta rinforzata. La postazione è conquistata. Batteria battuta. Postazione localizzata. Eliminato. Il fine di girano conquistato la postazione. La postazione è nostra. UAB di distorsi. Postazione contesta. Postazione persa. UAV in arrivo. Postazione conquistata. Ruina terra. UAV di disturbo alleato in arrivo. Postazione contesta. UAV di distorsi. Postazione contesta. Postazione contesta. arrestato. Costazione contesta. Fuori di distorsi. Postazione localizzata. Puoi distorsi. Vari dall'alleato in arrivo. Due nemici hanno la postazione. Spariti. un'emiglia assistito al massimo piaccia risolta nemico a terra torretta rimpulsata disponibile postazione conquistata piaccia rimossa postazione localizzata raid in attesa di ordini dei nemici hanno la postazione la postazione è nostra postazione persa sua via alleato in arresto spectra a terra la postazione è nostra assassino fuori dai giochi U.A.V. di disturbo pronto assassino fuori dai giochi stati attraere attraere r المissione c.O.A.V. al 50% modalità furtiva raid invisibile attraere 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 il nemico ha distrutto la vostra torretta rimpulsata attraere 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 centro confermato spazio aereo pieno spectro ucciso stazione contesa stazione localizzata la postazione è nostra siamo in testa vediamo di restarci alleato in arrivo dacom mandateci un rite stazione contesa stazione persa la postazione è nostra stazione contesa centrate la postazione è la postazione è nostra profett sparito stazione contesa stazione persa non potevano competere missione riuscita e abbiamo fatto il culo adesso marceranno all'inferno salio eliminato tornate ad addestrarvi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti